Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa, il cui argomento è la qualità dei dati. Cos'è la qualità dei dati? È una misura di quanto i dati sono adatti all'uso che ne dobbiamo fare. Per inquadrare meglio la qualità dei dati è importante parlare in generale di quella che è la qualità del software. La qualità del software è ovviamente un concetto molto più ampio rispetto alla qualità dei dati che si situa in un modello in cui abbiamo diversi aspetti di qualità che sono legati tra di loro. Nel modello di qualità del software noi abbiamo un punto di partenza che è la qualità del processo, ovvero come svolgiamo le attività di produzione del software, che influenzano quella che è una qualità interna del software, ovvero una qualità che riguarda gli aspetti intrinseci del nostro software, che a sua volta influenza quella che è la qualità esterna, ovvero la qualità che noi possiamo osservare nel software mentre è in esecuzione, la quale a sua volta influenza quella che è una qualità in uso. La qualità in uso è sostanzialmente la qualità che viene percepita da chi utilizza il software in diversi contesti di utilizzo. Ovviamente il software normalmente che cosa fa? Elabora dei dati, perciò anche la qualità dei dati rientra in questo schema e la qualità dei dati ovviamente influenza la qualità e soprattutto dipende dalla qualità del software che li produce e influenza quella che è la qualità in uso, ovvero la qualità percepita da chi utilizza un sistema in diversi contesti con diversi scopi per svolgere una qualche operazione. normalmente quando parliamo di qualità del software abbiamo ovviamente un sistema molto complesso. Abbiamo in generale il concetto di sistema informativo, quindi il software più il contesto più le persone che lo usano, che include un prodotto ICT. Un prodotto ICT che contiene del software il quale a sua volta può contenere dei componenti e ovviamente questi operano su dei dati e alla base di tutto c'è un aspetto di hardware e di comunicazioni e ovviamente a fianco di questo abbiamo quello che il contesto di uso, ovvero chi sono gli utenti che utilizzano il software, quali sono i loro obiettivi, qual è in generale l'ambiente in cui operano e poi c'è un contesto del sistema che vuol dire anche altri sistemi collegati al sistema principale. In questo contesto i diversi tipi di qualità vanno a misurare quello che sono delle proprietà di diversi elementi, per cui la qualità del prodotto sia interna che esterna si può applicare al sistema ICT in generale, al software che lo compone o ai singoli componenti che sono all'interno del nostro software. Quando parliamo di qualità in uso di solito facciamo riferimento al sistema informativo in generale, ovvero quello che gli utenti vedono, che può includere il prodotto ICT, ma anche le connessioni di rete, i browser con cui si interagisce, eccetera, e ovviamente la qualità in uso è influenzata da quello che è il contesto, quindi in funzione di quello che è il contesto in cui viene utilizzato il sistema avremo diversi percezioni di quella che è la qualità del sistema. E infine abbiamo la qualità dei dati che si applica a questa parte che sta all'interno di un prodotto ICT e che viene ovviamente prodotta e utilizzata da quelli che sono i componenti software. Quando parliamo di qualità del software di solito facciamo riferimento a una serie di standard che sono stati definiti per andare a misurare in maniera definita e comparabile le qualità o i diversi aspetti della qualità del software. Il primo standard è lo standard ISO 9126 che è stato sviluppato per la prima volta nel 1991 e ora è stato ritirato ed è stato sostituito dallo standard ISO 25000 che in realtà non è un unico standard ma è bensì una famiglia di standard sottopronominato Square, dove Square sta per software product quality requirements and evaluation ed è una famiglia di standard dicevo che è in attuale sviluppo per cui negli anni si stanno aggiungendo diversi componenti. La struttura di questa famiglia di standard prevede sostanzialmente 5 diverse famiglie che includono una serie di standard per la gestione della qualità, 25000 e un'unità, abbiamo i 25.010 eccetera che riguardano i modelli di qualità e i 25.020 che riguardano le misure di qualità. Infine abbiamo due ulteriori famiglie che sono i 25.030 e i 25.040 che riguardano rispettivamente la definizione dei requisiti di qualità e la valutazione della qualità. In questo contesto quando si parla di modello di qualità solitamente si definiscono un insieme di caratteristiche che sono gli aspetti principali che noi vogliamo andare a misurare, ad esempio l'usabilità di un software, le sottocaratteristiche, ad esempio l'accessibilità, è una sottocaratteristica dell'usabilità, le misure, quindi le misure che noi effettivamente possiamo andare a raccogliere per valutare quelle caratteristiche o sottocaratteristiche e le misure elementari, ovvero le misure di base che poi composte con una funzione di misurazione ci danno origine a quelle che sono le misure effettive. A questo punto veniamo a parlare di qualità dei dati, ovvero della porzione dello standard che riguarda la qualità dei dati. Il modello di qualità dei dati è definito nello standard 25.012 e sostanzialmente definisce queste caratteristiche. Le caratteristiche del modello ISO 25.012 sono divise in tre grossi gruppi. La seconda è che siano considerate inerenti nei dati, ovvero riguardano i fatti che questi dati rappresentano, oppure dipendenti dal sistema, ovvero sono funzione del software che tratta questi sistemi. E terza opzione, possono essere sia inerenti ai dati che dipendenti dal sistema. Le caratteristiche inerenti ai dati riguardano l'accuratezza dei dati, la completezza, la consistenza, la credibilità e la attualità. Sono caratteristiche invece dipendenti dal sistema la availability, la disponibilità, la portabilità e la recoverability, che ovviamente dipendono esclusivamente dal sistema in cui i dati sono memorizzati. Per cui, che siano recuperabili dopo un disastro, che siano portabili e trasferibili in un altro sistema o che il sistema effettivamente dia l'accesso sempre e comunque ai dati, ovviamente dipende dal sistema e non dai dati stessi. Abbiamo poi una serie di caratteristiche che possono essere sia inerenti ai dati che dipendenti al sistema, ovvero hanno alcuni aspetti che dipendono dal dato in sé e altri che dipendono dal sistema in cui sono memorizzati questi dati, ovvero la compliance con alcuni requisiti o standard, la confidenzialità, l'efficienza, la precisione, la tracciabilità, l'accessibilità e la comprensibilità. Ovviamente questi riguardano i dati in generale. A noi interessa, nel caso specifico di questo corso di visualizzazione dell'informazione quantitativa, andare a valutare quegli aspetti di caratteristiche che possono essere rintracciate all'interno di una visualizzazione dei dati. per cui abbiamo ovviamente tutti gli aspetti inerenti al dato, l'accuratezza, completezza, consistenza, attualità e credibilità, un paio di aspetti che sono a cavallo tra gli aspetti inerenti di dipendenti dal sistema, ovvero la precisione e la comprensibilità e non tracciamo o comunque non ci preoccupiamo troppo degli aspetti chiaramente dipendenti dal sistema, come ad esempio la disponibilità, portabilità e recoverability. Altri aspetti sono meno rilevanti per la visualizzazione grafica, ad esempio la confidenzialità è un qualcosa che non riguarda la visualizzazione in sé, ma riguarda il dato, il sistema che lo memorizza. Tralasciamo l'accessibilità che di solito è considerata, o almeno l'abbiamo considerata quando abbiamo parlato di aspetti di chiarezza dei dati, quindi abbiamo parlato ad esempio della dimensione dei font, dei problemi di gestità al colore, eccetera. Quindi le sette caratteristiche che andremo a trattare sono per l'appunto quelle che sono evidenziate qua. Iniziamo a parlare della prima, l'accuratezza, che è probabilmente quella più semplice da immaginare, ovvero è la caratteristica dei dati che va a verificare che esiste una corrispondenza tra il dato e la realtà che il dato rappresenta. Quando parliamo di accuratezza ci sono due aspetti da considerare, una è quella che si chiama accuratezza sintattica, ovvero il valore o il dato rappresenta un valore che è corretto secondo alcune regole diciamo grammaticali o appartiene a un insieme di valori che sono ammissibili, o accuratezza semantica, ovvero il dato effettivamente descrive quello che esiste nella realtà. Quando andiamo a parlare di accuratezza dobbiamo fare un'assunzione importante, ovvero dobbiamo capire se stiamo trattando i nostri dati secondo un'assunzione di mondo chiuso oppure di mondo aperto. Qual è la differenza? Sostanzialmente quando parliamo di mondo chiuso, ovvero closed world assumption, noi immaginiamo che la conoscenza sia tutta rappresentata nei dati e che sia completa, ovvero se abbiamo una serie di codici, che so, i codici delle province italiane, un codice di provincia o è uno di quelli che sono noti e quindi corrisponde a una provincia di quelle elencate dallo stato italiano oppure è un codice sbagliato. Non sempre però abbiamo la possibilità di fare un'assunzione di mondo chiuso, a volte capita di dover fare un'assunzione di mondo aperto, ovvero assumere che i dati che noi abbiamo a disposizione, sia quelli che stiamo valutando che tutti quelli di contorno, siano essenzialmente incompleti. E quindi se abbiamo un dato che corrisponde a un valore che noi sappiamo essere corretto, benissimo, quel dato è accurato da un punto di vista sintattico. Se invece non appartiene a un insieme di dati che noi conosciamo essere corretti, non possiamo dire nulla perché non sappiamo se i nostri dati sono effettivamente completi. Quando parliamo di closed world assumption, di solito facciamo riferimento a un insieme di codici noti per essere quelli corretti. Esempio, quando parliamo di geni umani, essendo stati sequenziati, ogni gene ha un codice predefinito che è ben noto, è ben noto, e per cui quando andiamo a fare un elenco di codici genetici, sostanzialmente avremo i nomi di questi geni. Esempio di scarsa accuratezza di dati. Esiste un codice di gene che si chiama septina2, che di solito è abbreviato in sept2. Nel momento in cui un file di testo contenente questo codice viene importato in un foglio elettronico, automaticamente, tramite i meccanismi di conversione automatica, quello viene convertito in una data che corrisponde al 2 febbraio. Ecco, per cui, quando nel nostro foglio elettronico ci ritroviamo 2 febbraio, invece di sept2, che è il nome di un codice, ecco, quello è un tipico esempio di non accuratezza sintattica. C'è stato uno studio di qualche anno fa che ha verificato come all'interno dei giornali scientifici che pubblicano studi di genomica, un numero molto elevato di articoli, diciamo 183 nel 2014, è il numero di picco, conteneva errori relativi ai codici dei geni. La causa può essere quella che vi ho indicato prima di import errato in un foglio elettronico o, in generale, altre cause che hanno portato ad avere codici di geni che non sono corretti. E questa correttezza è stata valutata utilizzando, per l'appunto, una assunzione di mondo chiuso. Noi sappiamo quali sono i geni, quindi sappiamo quelli che sono i nomi corretti e quelli che non lo sono. L'altro approccio che possiamo utilizzare è quello che si chiama di assunzione di mondo aperto, ovvero non abbiamo un elenco completo di tutto ciò che va bene, ma possiamo andare a utilizzare delle regole o dei meccanismi per capire ciò che è accurato o meno. Ad esempio, possiamo avere delle regole che ci permettono di andare a verificare in qualche modo che un certo valore sia corretto. Ad esempio, si possono utilizzare delle espressioni regolari. Oppure, possiamo avere dei vincoli che ci dicono che i valori in un certo intervallo, ovviamente non abbiamo l'elenco completo di tutti i valori, se immaginiamo un numero reale non sappiamo tutti i valori che sono compresi in un intervallo, sono infiniti. Quindi abbiamo i due estremi e sappiamo che lì in mezzo i valori sono corretti. Il punto è da dove andiamo a prendere queste regole. Ci possono essere degli standard che ci dicono che cosa è corretto o accettabile e cosa no. Possiamo avere una conoscenza del dominio, per cui se abbiamo dati finanziari possiamo sapere che le transazioni possono avvenire con dei tagli che sono multipli di 1000 euro e quindi se i valori non sono multipli di 1000 euro sappiamo che c'è un errore. Possiamo andare a fare la valutazione in base a quelli che sono dati analoghi in contesti diversi e quindi se in un contesto abbiamo una serie di regole possiamo applicare le stesse regole in un contesto simile. Oppure possiamo basarci su quelli che sono i dati passati delle nostre esperienze, quindi andiamo a vedere nel passato ciò che era corretto o meno e quindi da lì andiamo a inferire ciò che potrà essere corretto in futuro, sui dati futuri. Un esempio per darvi un'idea è dato da le regole per andare a capire se una certa stringa è un indirizzo di mail corretto. Quello che vedete qua è un'espressione regolare rappresentata in maniera grafica tramite quello che si chiama un Railroad Diagram, ovvero un diagramma binari che ci dice come possiamo andare a costruire il nome utente, questa c'è la chiocciola e poi c'è la parte dopo la chiocciola che è il nome del server. Ovviamente lo standard che si chiama RFC 5322 prevede che il nome dell'utente possa contenere dei caratteri non stampabili. Ecco, questi normalmente sono problematici e buona parte degli email client non sono in grado di gestirli. Dopo la chiocciola c'è un'annotazione tot sommato obsoleta che prevede di mettere un nome racchiuso tra quadre. L'annotazione con le quadre non è più utilizzata e buona parte degli email client non li utilizzano. Per cui, anche avendo questa regola ben definita, che ci dice quali sono gli indirizzi di mail corretti o meno, non è detto che seguendo questa regola poi riusciamo a essere sicuri che il dato sia corretto, ovvero che sia adatto all'utilizzo. L'utilizzo di un dato come questo, che è l'indirizzo di mail, vuol dire che il nostro client di posta sia in grado di leggerlo e di scriverlo. Ecco, se seguiamo queste regole non è detto che i nostri normali client di posta siano in grado di manipolare questo tipo di indirizzo. Altro aspetto importante da considerare, altra caratteristica di qualità, è la completezza. La completezza può essere valutata da due punti di vista. Da un punto di vista del calcolatore, quindi ci sono tutti i valori necessari, oppure da un punto di vista di utente, dove l'utente non valuta se i dati ci sono tutti, ma valuta esclusivamente se ci sono i dati che a lui servono. E' bene osservare che quando parliamo di completezza da un punto di vista di un calcolatore, molto spesso possiamo andare a verificare che ci siano tutte le entità, ovvero se parliamo di tabelle, tutte le righe necessarie, ci siano tutte le colonne, tutte le proprietà degli oggetti, ma non sempre se manca qualcosa quello è un errore. Se io ho i dati anagrafici delle persone, se manca la data di laurea, non è detto che sia un errore, magari si tratta di uno studente che non sia ancora laureato. E quindi il dato non c'è, ma è corretto che non ci sia. Esempio di completezza, a questo punto però valutata su un grafico. L'abbiamo visto in uno degli esercizi del corso, questo è un diagramma torta con le varie percentuali che indicano la composizione di un particolare fondo di investimento. Ognuna di queste fette corrisponde a un diverso tipo di investimenti fatti dal fondo. Ecco, il punto è che se io vado a sommare queste percentuali, io ho un 83,5%. Quindi non sappiamo il restante 16,5% in che tipo di investimento viene fatto. Quindi in questo caso il dato è incompleto. Ovviamente possiamo anche avere un aspetto di consistenza, di coerenza, perché questo tipo di grafico richiede che la somma delle varie fette componga un tutto, quindi componga un 100% e quindi abbiamo anche un problema di consistenza. Ma sicuramente i dati in questo caso sono incompleti perché abbiamo un 16,5% che non è assolutamente descritto. Altro tipo di completezza, di errore di completezza. Se andiamo a prendere questo diagramma abbiamo il numero di brevetti legati a intergi cristallo che sono stati emessi in varie decadi e quindi abbiamo 20, 40, 60, 80, 2000 e 2010 to present. Il punto è che qua parliamo di decadi, ma dal 20 al 40 sono due decadi. Quindi e il 1930, 50, 70, 90, dove sono finiti? Mancano, oppure in realtà non sono decadi ma sono ventenni. Quindi o mancano i dati oppure abbiamo un problema di consistenza perché qui parliamo di decadi ma in realtà stiamo considerando dei ventenni. La consistenza è l'altro problema che spesso è legato alla completezza quindi se mancano dei dati non sappiamo se mancano perché effettivamente sono errati oppure se in realtà stiamo violando quella che è una regola di consistenza interna. Quando parliamo di consistenza intendiamo dire che non esistono contraddizioni all'interno dei dati. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo spesso regole di integrità referenziale per cui se ho il codice di un corso seguito da uno studente deve esistere un corso con quel codice. Questo tipo di vincoli normalmente sono garantiti in maniera automatica all'interno di database relazionali. Possiamo andare a vedere problemi di duplicazione. In realtà la duplicazione di per sé non è un problema di consistenza ma avere elevati livelli di duplicazione viene considerato come un rischio di potenziale inconsistenza quando i dati vengono aggiornati. Oppure abbiamo dei problemi di consistenza semantici per cui abbiamo, non so, la data di nascita posteriore alla data di morte o aspetti che vanno in contrasto con quelli che sono le regole logiche che esistono nella realtà. Quando parliamo di grafici la consistenza può essere valutata in diversi aspetti. Sostanzialmente l'idea è che noi dobbiamo andare a garantire che i dati che sono mostrati e quindi sono codificati graficamente, siano confrontabili tra di loro, quindi siano coerenti e consistenti tra di loro. Possiamo avere problemi di consistenza quando abbiamo diversi livelli di aggregazione, degli intervalli temporali diversi, delle entità che andiamo a misurare che non sono consistenti tra di loro oppure abbiamo diversi metodi di misura. Vediamo alcuni esempi. In questo caso abbiamo il numero di docenti, in blu i professori associati, in arancione i professori ordinari, per diverse fasce d'età. Ora, vediamo che in questo intervallo abbiamo 5 anni. In questo intervallo abbiamo 5 anni, in questo intervallo ne abbiamo 10, come pure in questo e come pure in questo. Quindi se io vado a comportare questo 16.000 con questo 3.000, è ovvio che ho una differenza, ma questa differenza è esagerata perché questi 16.000 sono in un intervallo di ampiezza 10, che è il doppio dell'ampiezza di questo intervallo. Per cui, se vado a verificare i dati, i primi due intervalli hanno un'ampiezza di 5 anni, gli altri hanno un'ampiezza di 10 anni. E questi sono i valori che vengono riportati. Ovviamente, se io vado a calcolare una misura, diciamo così, di densità, e quindi vado a vedere quanti ci sono mediamente per anno. In un caso abbiamo 621, nell'altro caso abbiamo 1.645. Per cui, se io vado a fare il rapporto tra questi due valori, ottengo 5,3. Se lo vado a fare tra questi due, ottengo 2,6. Quindi ho sostanzialmente esagerato, raddoppiato, quello che è il divario tra questi due intervalli. Per cui, se volete, in termini di proporzionalità pure semplice, non ci sono problemi, nel senso che effettivamente 16.000 e 3.000 sono stati rappresentati in maniera, immaginiamo, proporzionale. Il punto è che, in realtà, il dato vero non era confrontabile perché faceva riferimento a un diverso livello di aggregazione e quindi ho una specie di life factor non sulla rappresentazione grafica, ma bensì su quelli che sono i dati che sto andando a rappresentare. Quindi, in generale, devo sempre andare a rappresentare dati che siano direttamente confrontabili tra di loro. E il livello di aggregazione può essere una causa di non confrontabilità. Altro aspetto riguarda l'intervallo temporale. Torniamo al caso di prima, ovvero il numero di brevetti relativi a teggi cristalli che sono stati emessi in diversi anni. Ora, noi possiamo immaginare che, in realtà, qui, non stiamo parlando di decadi, ma stiamo parlando di ventenni, quindi qui ne abbiamo a 430 dal 1920 fino al 1939, 260 dal 40 fino al 59, eccetera. Il problema è che anche qui abbiamo qui vent'anni, qui abbiamo vent'anni, qui abbiamo vent'anni, qui abbiamo vent'anni, e poi da qui a qui abbiamo dieci anni, e 2010 a present, visto che è un articolo del 2014, questo vale quattro anni, quindi 20, 20, 20, 20, 10 e 4. Quindi abbiamo di nuovo degli intervalli temporali abbastanza diversi. Anche in questo caso, se io vado a fare un conteggio in termini di non numero assoluto in quell'intervallo, ma numero assoluto diviso per la dimensione dell'intervallo temporale, ecco che ottengo dei valori che sono più ragionalmente confrontabili. Altro esempio, entità che siano confrontabili tra di loro. Allora, qui abbiamo un diagramma preso dall'Economist che va a rappresentare l'altezza e il peso, in termini di larghezza, dei vari Batman, a partire dalle serie TV di Adam West fino a Ben Affleck. ci sono ovviamente però due entità che non sono esattamente coerenti con le altre. Una è chiaramente non coerente perché è il Lego Batman che ovviamente è alto 4 centimetri e pesa 4 grammi. L'altra entità che esattamente non è coerente è quella del comic book perché ovviamente questi sono tutti attori in carne e ossa e questo no, nel senso che appartiene a un fumetto. e quindi probabilmente questo e questo hanno dei problemi di confrontabilità perché non rappresentano delle entità coerenti tra di loro ma sono misure fatte su entità completamente diverse e quindi ragionevolmente non confrontabili. Altro esempio sondaggi politici nei sondaggi politici molto spesso ho vabbè qui ho diverse date di sondaggio qui ho diversi partiti politici e le percentuali di preferenze ipotetiche nelle diverse date e poi ho questa colonna che riporta quelli che sono gli indecisi il punto è che io sarei portato a confrontare il numero di indecisi con le percentuali che vedo a fianco ecco peccato che questo confronto non si possa fare perché perché se io vado a vedere come sono calcolati questi valori gli indecisi sono calcolati come il numero di indecisi più il numero di mancate risposte diviso il numero totale di persone che sono state intervistate mentre invece la proporzione per un particolare partito è dato da il numero di persone che hanno espresso la preferenza per quel partito diviso la dimensione originale meno il numero di indecisi meno il numero di mancate risposte quindi i due rapporti hanno dei denominatori che sono diversi e quindi non sono direttamente confrontabili per cui quando nei sondaggi politici vado a confrontare il numero di indecisi con il numero di preferenze per un partito sto facendo sostanzialmente un errore perché le entità che confronto non sono compatibili e quindi ho un problema di inconsistenza altro aspetto da considerare è il metodo di misura può capitare che alcuni valori siano misurati in maniera decisamente diversa ad esempio potrei avere dei dati che sono misurati effettivamente altri che sono stimati potrei avere delle proiezioni o potrebbero dei dati a consuntivo oppure potrei avere dei dati che sono misurati in diversi periodi dell'anno se io vado a calcolare il numero di sciatori sulle piste ad agosto a gennaio oppure a marzo dopo lockdown è chiaro che ho dei valori completamente sballati e diversi e che non possono chiaramente essere confrontati perché? perché vanno a misurare l'entità è sempre la stessa però in un contesto molto diverso e quindi che mi porta ad avere un'inconsistenza del metodo di misura altro aspetto importante di qualità è la comprensibilità ovvero la misura in cui i dati possono essere letti e interpretati dagli utenti in particolare a noi interessa capire come sono stati misurati i dati che cosa significano in modo da poterli interpretare correttamente poter valutare se sono stati misurati in maniera corretta se sono stimati in modo da poter poi prendere i dati valutare gli aspetti di qualità e valutare anche quello che è il messaggio complessivo del dato ovviamente io posso avere anche diversi metodi di misura e quindi avere dei problemi di consistenza il punto è che se io non so come sono stati misurati i dati e che cosa descrivono effettivamente non ho la capacità di valutare la bontà del dato e quindi non sono in grado di andare a valutare la bontà complessiva di quello che è il mio grafico e del messaggio che trasmette l'attualità dei dati è un altro aspetto importante da considerare ovvero l'attualità è il livello per cui i dati sono effettivamente aggiornati quando parliamo di aggiornamento possiamo intendere aggiornamento rispetto a quello che è la realtà e quindi se abbiamo i dati della disoccupazione vorremmo avere quelli dell'ultimo mese del mese corrente o di quello precedente non quello di dieci anni fa oppure dati che siano aggiornati ma in maniera sufficiente per il compito o lo scopo della nostra visualizzazione quindi in questo caso magari non interessa avere dei dati dell'ultimo mese magari se vogliamo andare a vedere un'evoluzione storica ci bastano i dati anche dell'anno scorso quindi non sempre voglio i dati più recenti in assoluto ma voglio dei dati che siano sufficientemente recenti o legati alla realtà e al compito, all'operazione o all'analisi che io voglio fare ovviamente la mancanza di informazioni sull'attualità dei dati è di per sé non tanto un problema di attualità ma un problema di comprensibilità quindi abbiamo dei dettagli dei dati che sono ignoti quindi non siamo in grado di comprenderli completamente ulteriore aspetto da valutare quando andiamo a valutare dei dati, dei grafici è la credibilità, ovvero il livello per il quale noi siamo in grado di essere convinti che i dati siano veri e quindi siano credibili il caso più tipico è quando noi non abbiamo idea di quali sia la fonte dei dati per cui in generale è buona norma andare a indicare nei grafici o in qualche modo legato ai grafici qual è la fonte dei dati in modo da dare un livello di credibilità a quello che è la nostra visualizzazione e i dati che rappresenta altro aspetto da valutare è quello che è la precisione ovvero la capacità dei nostri dati di fornire un livello di dettaglio dell'informazione che sia adeguato all'uso che ne vogliamo fare quindi dobbiamo avere sufficiente informazione per andare a discriminare valori diversi ovviamente non dobbiamo esagerare dall'altra parte quindi non dobbiamo andare a avere una precisione o un livello di dettaglio eccessivo perché questo andrebbe a oscurare il messaggio quindi avremo problemi di utilità di quello che noi abbiamo all'interno del nostro grafico ad esempio un grafico come questo in cui abbiamo dei valori che ovviamente oscillano molto ma qui abbiamo dei dati che riguardano ad esempio il 24 febbraio 2020 alle ore 00 il 21 marzo 2020 alle ore 00 ecco in questo caso l'ora è assolutamente inutile l'anno è assolutamente inutile quindi abbiamo un livello di precisione che è assolutamente non adeguato a quelli che sono i compiti che vogliamo andare a svolgere con questo grafico e ovviamente il fatto che non siano adeguati non vuol dire che non sono sufficienti vuol dire anche che sono troppi e quindi una precisione eccessiva ci dà dei problemi di comprensibilità del grafico di utilità e quindi va a confondere quello che è il messaggio finale un altro aspetto da considerare quando parliamo di precisione è il fatto che alla precisione è associato un certo livello di incertezza per cui se andiamo a considerare un livello di precisione ovvero il numero di cifre decimali dopo un numero se non abbiamo nessuna cifra decimali quindi ad esempio mettiamo 1 il livello di incertezza associato a questo valore sostanzialmente ci fa dire che se abbiamo 1 sostanzialmente è ragionevolmente un valore che starà tra 0,5 e 1,5 quindi abbiamo un intervallo di incertezza che è circa di 1 se il livello di precisione è 1 quindi abbiamo una cifra decimale quindi invece di 1 andiamo a riportare 1,2 ecco che a questo punto il livello di incertezza si riduce decisamente diventa un decimo quindi è sostanzialmente tra 1 e 1,15 e 1,25 quindi molto più stretto andando oltre se aggiungiamo un'altra cifra decimale l'intervallo di incertezza si riduce ancora e in questo caso è da 1,235 a 1,245 ulteriore riduzione se mettiamo tre cifre decimali in questo caso l'intervallo di incertezza è tra 1,2365 e 1,2375 per cui ricordiamoci che fornire un certo numero di cifre decimali può essere utile per andare a ridurre quella che è l'incertezza che viene percepita da chi osserva il grafico quindi riepilogando quando noi andiamo a vedere la qualità del dato mostrata in un grafico possiamo fare riferimento a un sotto insieme delle caratteristiche di qualità definite dallo standard ISO 250012 che riguardano le caratteristiche inerenti quindi l'accuratezza, la completezza, la consistenza, l'autorità, la credibilità e altri due aspetti che sono cavallo tra inerente e system independent che sono precisione e comprensibilità queste caratteristiche possono essere valutate in termini di aspetti che noi riusciamo a vedere in un grafico e quindi ci permettono di andare a valutare la qualità del dato che sta dietro la visualizzazione e che quindi ci permette di valutare complessivamente la bontà della visualizzazione in sé oltre a quello che noi riusciamo a percepire del dato che sta dietro la visualizzazione ovviamente anche gli altri dati, le altre caratteristiche di qualità sono importanti ma in termini di rappresentazione visuale questi sono quelli che hanno l'impatto più importante